Fatemi un attimo, voglio mettere sul tavolo un altro elemento di discussione perché abbiamo evocato Di Maio, stamane il Ministro del Lavoro Di Marchionne ha parlato, lo ascoltiamo e ne parliamo insieme. Magari con Marchionne non siamo andati d'accordo quasi su nulla in questi anni, però vedere una certa sinistra che quando lui era potente gli hanno permesso di fare quello che voleva e adesso che in condizioni critiche su un letto d'ospedale lo attacca è veramente miserabile. Bisogna rispettare le persone che non stanno bene, che stanno su un letto d'ospedale e non attaccarle quando sono ex AD e invece fargli fare quello che volevano quando era AD. E questa è la sinistra italiana. Migliore. No, al quarto servizio di Di Maio pensavo di essere... Questa è giustizia rispetto alla verità innanzitutto perché è una dichiarazione... Sì, 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 ma è il quarto servizio su Di Maio. Quarto? Comunque. Allora, che Di Maio stia facendo una campagna contro la sinistra questo è chiaro. A chi si riferisca non ho capito perché in realtà il rapporto di rispetto nei confronti di un uomo come Marchionne innanzitutto per la persona ma anche per il ruolo che ha svolto certamente appartiene alla stragrande maggioranza di quelli che sono realmente di sinistra. Però il punto è sempre molto delicato. Io considero chi come Di Maio ha fatto una campagna elettorale anche furibonda nel territorio dove la Fiat e la FCA oggi ha un suo importante insediamento, quello di Pomigliano, il solito modo di svicolare da quelli che sono i giudizi che lui stesso ha largamente distribuito nei confronti della persona Marchionne. E infatti io penso che oggi la cosa più saggia da fare da parte del Governo è studiare, cosa che raramente sta facendo su molti provvedimenti, e seguire il Consiglio di Crosetto, cioè di mettersi intorno a un tavolo per capire qual è il destino industriale. Se il destino industriale dell'Italia è sbandierare, come è stato fatto così alla Carlona dal Ministro Toninelli, la rinazionalizzazione dell'Alitalia, dopo che già gli contribuenti hanno perso moltissimi soldi delle loro tasche per la prima operazione che fu fatta con la cordata di imprenditori italiani nel 2008 da Berlusconi, io penso che questo Governo non ha una visione. Se la politica è quella di dire sull'Ilva ritardiamo le scelte in modo tale che l'Ilva addirittura possa chiudere, io penso che questo possa essere un problema per il sistema industriale.